47,64% le preferenze date a Stefano Bonaccini, Eli Schlein si ferma al 40%. Sono le percentuali portate a casa dai quattro contendenti al titolo di segretario nazionale del Partito Democratico al Congresso, quando a votare sono andati 1380 padovani. Le percentuali della Città del Santo danno per favorito il governatore dell'Emilia-Romagna, in linea con quelle nazionali, ma è proprio a Padova che Schlein dimostra di avere un grande appeal. Iscritti al Partito sono 2000 elettori, il segretario provinciale e sindaco di Rubano Sabrina Doni auspica però che domenica i votanti saranno molti di più. È un confronto sicuramente sfidante e la gente lo sta sentendo, lo sta percependo da una parte Eli che rappresenta un po' il volto femminile, la novità, l'eurodeputata che si è spesa molto per le politiche anche migratorie. Dall'altro abbiamo uno Stefano Bonaccini che ha dimostrato negli anni di sapere essere un amministratore di tutto rispetto. Quello che ci auguriamo e per il quale stiamo lavorando molto duramente in queste settimane è di portare tanti altri elettori che magari non hanno la tessera del Partito Democratico in tasca, ma hanno un amore per la democrazia e per le politiche per la persona che il Partito Democratico da sempre porta avanti. 14 seggi in città ubicati nelle sedi dei quartieri, 71 in tutta la provincia. Domenica si vota anche per l'Assemblea nazionale, 9 i posti padovani appetibili. Ecco le liste, tra i nomi per Bonaccini, tanti amministratori pubblici, sindaci di Campo San Piero, Due Carrare, Piove di Sacco, capolista il vice sindaco Andrea Michalizzi. Nella lista a Schlein, capolista Vanessa Camani, accanto a lei la consigliera Etta Andrella. È un'elezione sicuramente aperta, questo è il vero messaggio importante, è un momento a una scelta politica che il Partito fa e che finora ha premiato con un ampio consenso e un'ampia partecipazione. È un'elezione sicuramente aperta, questo è il vero messaggio importante, è un momento a una scelta politica che il Partito fa e che finora ha premiato con un ampio consenso e un'ampia partecipazione. È aperta anche ai non iscritti al PD e ovviamente invitiamo tutte le persone che si riconoscono nei valori del progressismo, della democrazia e che noi portiamo avanti con le nostre attività politica e quindi sì, è aperta a tutte e tutti.